Questa notte i carabinieri della compagnia di Gravina di Catania hanno tratto in arresto Vitale Rosario di anni 50 per l'omicidio aggravato del fratello Vitale Davide di anni 46. In particolare, secondo la prima ricostruzione dei fatti, sembrerebbe che il Vitale Davide si sia presentato a casa del fratello Vitale Rosario minacciandolo con un coltello. Di contro il Vitale Rosario ha aperto il fuoco con una pistola illegalmente detenuta, uccidendolo. Il movente potrebbe ricercarsi nei indissidi di natura familiare.